essere saltellanti e benvenuti in questo nuovo video oggi non abbiamo niente da fare quindi ci arrangeremo in qualche modo vado a comprare qualcosa qualche ora dopo dai forza ce la puoi fare giren forza forza muscoli 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 muuuu cosa ho fatto perchè ce l'hai fatto un verso muuu come le mucche cosa fai ho portato il più bello giocattolo del mondo l'ultra est aspetta soltanto che devo inquadrarlo per bene ok giren ecco qua perfetto apriamo certo non vedo l'ora forza volare nel blu diventa di blu dai forza e un attimo l'hai fatto cadere bravo bravissimo aprile il cameraman è troppo difficile perfetto cameraman ok grazie infinite cameraman per chi non lo sapesse abbiamo due cameraman uno che sta ma cosa dici uno che ha la telecamera e l'altro che ci aiuta quello con la videocamera ha fatto lui praticamente ma vabbè sì perché l'altro non sa fare video noa noa cioè sì li sa fare però non sa cioè non sa mettere su youtube ma cosa dici allora i due camera non sono Aaron e Noah quello che vedete nei video precedenti hai finito di tossire sì cerchiamo con questo giocattolo sì sì fatti vedere cameraman Noah ti vogliono tutti vedere forza cosa ti devono tutti vedere forza no la tua bellissima faccia inquadriamola andati voglio questo qua sì è un po' ecco ecco è un po' diventato grande e anche tu Aaron non fai finta di niente va bene ecco bravo cos'è quello è il mio ginocchio vieni subito qui si vogliono tutti non una parte ciao via cameraman Noah non si vede adesso basta dai ho trovato la tua brutta faccia infatti andate tutti via questo unboxing è nostro ho trovato ho trovato i men i men sì cosa c'entra adesso dobbiamo giocare con quello allora iniziamo subito a giocare quindi voilà ragazzi posso farvi vedere come si muove può muoversi la gamba ovviamente l'altra gamba ovviamente così fa la cacca no poi le mani poi c'è quello che fa ok basta 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 poi può muoversi la testa e bomb è molto arrabbiato no no le mani vi ricordo che vi ricordate quando siamo andati a casa di un nostro fan e poi abbiamo fatto le fotografie beh purtroppo non l'abbiamo potuto registrare ma io sono Batman la smetti Jiren e dai stai facendo spaventare tutti stai facendo spaventare tutti lui non è Batman sono io ma in mezzo in oltre istinto sì in mezzo in oltre istinto ma zitto perfetto adesso voglio fare un'altra cosa dobbiamo allungare il brodo perché il brodo si allunga come uno slime maneggiabile dobbiamo così diventare una melmosa pasta croccante ma no allungare il brodo è un modo di dire è un modo di dire e io non li capisco i modi di dire significa che dobbiamo far diventare il video un pochino più lungo almeno facciamo vedere ai ragazzi la nostra casa no dai 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 no 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 dai dai no dai il cameraman sei d'accordo con me è vero? no e in realtà non sono d'accordo con nessuno ma dai sei d'accordo con me no dai ti beco no no via telecamera butta laggiù buttate giù questa telecamera ed ecco la nostra casa iuppi mangiamo la pizza una il due il tre telecamere sono telecamere queste tre che ha detto coppia sì che possiamo anche cantarci ma come potete vedere stavo mangiando una pizza oi lassù cosa state facendo? eh 102 quasi distrutta ma smettila adesso entriamo in casuccia quindi entriamo ed ecco fatto questa qui è la nostra casa del piano interrato interrato quindi vediamo un po' abbiamo delle pizze lì c'è la scala per andare al piano di sopra il piano di sopra ancora eh sì anche il piano di sopra ancora sono lunghe queste scale e adesso andiamo al piano di sopra forse perché qualcuno qui deve andare in bagno e sarebbe Jiren e un attimo ma perché ti sei nascosto dietro il mobile? e lì dove si fa la bb voglio ma e il bagno di sopra? dovete sapere ragazzi che abbiamo due bagni uno qua e uno al piano di sopra ma dove? quello lassù ah già è vero l'abbiamo tolto vero 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 adesso quello è diventato il letto di Jiren e il mio poi cioè qua sopra sì e qua c'è l'altra parte degli allenamenti aspetta gli altri non lo vedo dobbiamo andare al piano di sopra aspetta adesso saliamo queste scale saliamo anche le altre urca che è alto togli ecco qua questo sarebbe il nostro piano dove facciamo gli allenamenti il box guardate ma che stai rompendo ma Jiren perché sei caduto? eeeh vabbè io non caduto non ho andato al bagno gne 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 sei caduto come una pedacotta perché tu non ti spostavi facciamo alcuni allenamenti spostiamo un po' la casina ma si sposta la nostra casa sì da quando? da anni fa ah già è vero ragazzi questa è una casa che si sposta quindi possiamo anche girarla girarla e qua e qua qua su ci alleniamo fai gli allenamenti Jiren si cade in normale ma bravo bravo ma quando cade è normale giusto? sì perché quello è vecchio ed è la casa dell'anno scorso ragazzi dovete sapere che noi abbiamo tre case avevamo avuto la prima casa che ho avuto solo io perché lui non era ancora nato e poi la seconda casa era piccola quindi ci siamo spostati e la terza è questa e la terza ragazzi questa è della nostra prima casa ragazzi intendo di 5 5 no era di di ieri ma che di ieri? di 5 anni fa poi ragazzi è proprio fatto così per gli allenamenti ma dai non dire cose strane poi si dice poi si dice Abelibach e Fly sono saluto dall'altra parte ma Abelibach e Fly è un corno Abelibach all'ospedale semmai sì io lo so poi ragazzi questo è proprio fatto così per gli allenamenti sì è antico ma è fatto anche per gli allenamenti ma cosa sto dicendo perfetto scendiamo le scale e torniamo al piano di sotto qui ci sono le nostre monettine money aspetta tutto spoccato bla via quella mano Giren ma qui sono i miei soldi i nostri soldi dove sono finiti i miei soldi al ladro ah ecco questi sono i nostri soldi ci sono anche 100 lire ma che 100 lire? 100 euro 100 euro di carta però di carta certo i soldi le banconote sono di carta ci abbiamo 300 euro qua di carta sì è vero sono 300 euro però rimettili lì non voglio che nessuno me li rubi ma se dico di metterli lì perché perché cavolo devi metterli lì lì facciamo gli allenamenti benissimo ragazzi questo video finisce qui mi raccomando fateci sapere se vi è piaciuto e cliccate a destra per vedere tutti i nostri video e a sinistra per iscrivervi al canale ma basta tu noi ci vediamo al prossimo video saluta tu maleducato ciao belli ciao ciao